La piazzetta San Michele di Nicosia si è trasformata in un palcoscenico di sapori e tradizioni durante l'attesa sagra dei maccheroni in Lamaida, evento che ha evidentemente concluso il calendario estivo in Nicosiano il 6 ottobre. Sotto la regia di Filippo Giacobbe, storico promotore dell'iniziativa, la manifestazione ha saputo coniugare gastronomia, spettacolo e impegno sociale. Il protocollo stesso indiscusso della scelta è stato il piatto della tradizione, i maccheroni al sugo, serviti secondo l'antica usanza nella Lamaida, caratteristico contenitore in legno che conferisce al piatto un sapore unico e autentico. Gli ospiti muniti di tichetta hanno potuto assaporare questa prelibatezza accompagnata da un bicchiere di vino locale in un'esperienza gastronomica che ha celebrato le radici culinarie del territorio. La sagra ha offerto un ricco programma di intrattenimento che ha saputo coinvolgere diverse espressioni artistiche e sportive. Le ivaci performance delle barriere dello Zumba Fitness Club hanno colorato una piazza di energia e ritmo, mentre il karate club di Nicosia guidato dal maestro Francesco Occhipinti ha impressionato il pubblico con raffinate dimostrazioni di arti marziali. L'evento ha anche assunto una significativa valenza sociale grazie all'annuncio di un'importante iniziativa in collaborazione con il consigliere Filippo Giacobbe aver avviato un corso di difesa personale destinato a 50 donne del territorio. Questo progetto testimonia concretamente l'impegno della comunità nella sensibilitazione e nella lotta contro la violenza di genere. A colorare una serata già ricca di emozioni, le note trascinanti del gruppo Gli Assi hanno fatto ballare i presenti fino a tarda sera. Le loro melodie coinvolgenti hanno creato l'atmosfera perfetta per concludere un evento che ancora una volta si conferma a pietra miliare nel panorama delle manifestazioni culturali nicosiane dove tradizioni, culture e socialità si fondono in un'unica indimenticabile esperienza.